ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo oggi vi spiego come controllare la temperatura della propria scheda video molto semplice grazie a questo programma software msi afterburner che ti permette di controllare non solo la scheda video ma puoi anche overclockarla e fare anche altre cose quindi quello che faremo oggi è scaricare questo programma voi lo scaricate lo installate una volta installato possiamo aprirlo lo apriamo non vi preoccupate se sentite un rumore nel vostro pc perché si è messa in moto la scheda video quindi sta cominciando a girare basta andare su impostazioni io ho un'altra interfaccia voi invece avrete l'interfaccia quella default mi sembra tipo questa qua così faccio annulla un attimo vado su impostazioni allora se andiamo su ventola abilita il software del controllo automatico come potete vedere se andate su ventola a voi uscirà così cliccate qua sopra ad esempio se voi state giocando a un gioco molto pesante con il retracing attivo e state facendo 80 gradi vabbè capita di fare 80 gradi come potete vedere qua sotto c'è scritto 80 gradi temperatura ecco invece la velocità percentuale a quanto deve andare veloce per raffreddare la propria scheda video quindi io ad esempio non supero mai i 75 gradi sto sempre sotto i 75 certe volte anche sui 69 non ci sono mai arrivato a 80 gradi quindi se io faccio 70 gradi la mia scheda video andrà ad una velocità del mettiamola al 50 per cento ok 50 per cento 70 gradi applica se invece la tua scheda video va a 70 gradi e tu vorresti raffreddarla in fretta che è sconsigliata questa cosa molte persone che fanno prendono questa spunta cioè prendono questo quadratino e lo mettono a 100 per cento è esagerato quindi danneggeresti solamente la scheda video quindi 70 gradi a 100 per cento di velocità è esagerato veramente è sconsigliato proprio e potresti anche danneggiare la tua scheda video quindi meglio stare sui 70 gradi se arriva a 70 gradi 50 per cento e faccio applica invece per quelli che accendono il pc lavorano solo la scheda video farà come potete vedere 43 gradi 42 50 gradi dipende anche dal sistema di raffreddamento che avete nel vostro pc com'è a me invece è buono 42 gradi adesso sto registrando e cose così è aumentata la temperatura sta usando sta usando la scheda video quindi se la temperatura del mio della mia scheda video ad esempio 42 gradi la faccio girare la faccio girare a 30 risparmio anche energia quindi 42 gradi adesso sta girando lentamente quindi la procedura è molto semplice è questa mi raccomando non mettete 100 per cento non fate casino perché se la vostra scheda video che ne so la vostra scheda video sta a 40 gradi se voi volete mettere 100 per cento di velocità della ventola rischiate grosso quindi non fatelo non fatelo e fate applica se invece avete non so bisogno di registrare qualche gioco mettendo anche i grafici nel video non so se avete mai visto un benchmark tutti quei grafici sullo schermo basta andare su grafici qui e impostare quello che vi serve quindi temperatura basta cliccare su una sponda cliccare qua sopra e fare applica ok anche se questa parte dei grafici non faceva parte del video però l'ho aggiunta così tanto per aiutarvi quindi ragazzi controllare la propria scheda video attraverso questo software regolando così la velocità a seconda della temperatura che stai facendo nel pc molto semplice sei tu il padrone della scheda video quindi tu decidi a quanto deve andare quella scheda video la velocità vabbè la temperatura come ho detto dipende dal vostro pc e dipende anche dal vostro sistema di raffreddamento ok e quando ho cambiato case ora l'aria entra perché prima avevo un case di vetro tutto chiuso e delle ventole con un piccolo buco davanti che l'aria neanche entrava e neanche usciva quindi la temperatura della mia scheda video è arrivata a 79 gradi quando ho cambiato case da 79 sono uscito a 65 gradi perché l'aria entrava usciva e aveva anche un buon sistema di raffreddamento quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi se questo video vi è stato utilissimo vi consiglio di iscrivervi al canale per attivare la campanella e di lasciare un like quindi come regolare la temperatura della vostra scheda video tutto qua questo era ok quindi poi per un'altra cosa riguardo all'interfaccia mi raccomando non toccate niente non fate niente preoccupatevi solamente della velocità della ventola dei grafici se vi servono e basta ok quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo al prossimo tutorial ciao